Presidente, continuano a esserci delle scintille nel centro-destra dai temi che vanno dai vaccini, la legge Fornero? No, io non credo che sia così. Ci sono sensibilità diverse, questo non c'è dubbio, ma credo che sia la ricchezza e il bene della nostra coalizione. L'uomo solo al comando, l'intelligenza unica, francamente, in quest'ultima legislatura, non hanno portato particolare fortuna al Paese. Sulle larghe intese? Le larghe intese sono inutili in un Paese in cui si vede troppo diversamente, in cui i programmi troppo spesso vengono disattesi. Non lo dico per amor di parte, per amor di coalizione o per spirito provocatorio. Dico che le larghe intese le abbiamo vissute questi cinque anni e non mi pare che il Paese abbia fatto significativi passi avanti in termini di sicurezza, in termini di immigrazione, in termini di sviluppo economico, in termini di modernità, di ricerca, di ruolo nella politica estera. Altri cinque anni di larghe intese come quelle che abbiamo appena vissuto, credo che non porterebbero a nulla. È difficile pensare che qualcosa cambi se i tuoi comportamenti restano uguali. È un atteggiamento particolarmente irrazionale, perché qualche cosa cambi devono cambiare soprattutto i comportamenti. I comportamenti che si portano alle larghe intese non sono comportamenti che hanno portato bene a questo Paese.